Grazie per la vostra presenza, intanto buona preghiera a tutti. Iniziamo facendoci il segno della coscia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Avvicinati Rosalba, aspettavamo te. 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 Signore, perché tu sei il nostro Signore, tu sei in te, la luce di Dio più grande di te, il Signore di Gesù, mentre abbiamo fatto questa esperienza di te, Signore, e allora, Signore, vogliamo vivere di te. Signore, perché tu sei il nostro 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 Signore, che tu sei il nostro Signore, perché tu sei il nostro Signore, perché tu sei il nostro Signore, che 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 tu sei il nostro Signore, Grazie, Signore, il tuo Santo Spirito, riempi i nostri cuori da questa vita della tua grazia, grazia che ci aiuta, ci sostiene, ci porti vita. Vieni, Spirito Santo, illuminaci, facci scendere nelle profondità del nostro cuore, perché possiamo consegnarlo tutta sera, Signore, e quindi, Spirito Santo, illuminaci, facci scendere nelle tue parole di Cristo e nelle nostre cuore, perché possiamo consegnarlo tutta sera, Vieni, Spirito Santo, illuminaci, facci scendere nelle tue parole di Cristo e nelle nostre cuore, perché possiamo consegnarlo tutta sera, Vieni, Spirito Santo, illuminaci, facci scendere nelle tue parole, perché possiamo consegnarlo tutta sera, Grazie, Signore, il tuo Santo Spirito. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore.